Si chiama economia circolare nel settore dello smaltimento dei rifiuti. In pratica è un sistema attraverso il quale ricavare economia non tanto dalle immondizie, ma dai processi di lavorazione ai quali vengono sottoposte. Complicato? Forse. Basti pensare due cose. La prima è che per realizzarlo bisogna ridisegnare del tutto il modello di gestione dei rifiuti che attualmente è in uso, avendo come obiettivo l'azzeramento delle scorie e il massimo ricavo tramite le energie rinnovabili. La seconda cosa è che l'Unione Europea ci crede molto e ci sta puntando con convinzione. In Italia è un'azienda di Roccasecca quella che rappresenta uno dei casi più rilevanti per le sue applicazioni dell'economia circolare nel settore dello smaltimento dei rifiuti. È la MAD che è stata invitata a Bruxelles per illustrare il proprio modello organizzativo e le innovazioni tecnologiche installate presso il sito di Roccasecca. I suoi tecnici lo hanno fatto nella sede di Bruxelles della Regione Lazio che ha organizzato l'incontro insieme alla Commissione Europea e sotto il patrocinio della Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Presenti l'assessore allo sviluppo economico e le attività produttive della Regione Lazio Guido Fabiani, il direttore del Dipartimento Ambiente e della Direzione Generale per la Ricerca e l'Innovazione della Commissione Europea Kurt Vandenberg e vari rappresentanti della Commissione. A loro la MAD ha spiegato il proprio sistema tecnologico integrato, fornendo informazioni concrete sulle politiche europee a supporto della ricerca e dell'innovazione. Il dottor Ruggero Gambatesa, responsabile ricerca e sviluppo della MAD, ha spiegato come il bonello di sviluppo scelto nell'impianto di Roccasecca stia consentendo di recuperare i sottoprodotti dei processi aziendali, migliorandone l'efficienza e mitigando gli impatti ambientali delle proprie attività. Tradotto dal linguaggio tecnico, non si buttano nemmeno le scorie di lavorazione, anzi diventano un elemento che viene reinserito nel ciclo di lavorazione e produce utili. Per fare un esempio pratico, il percolato, cioè il liquido che si forma con la scolatura dei rifiuti, anziché essere portato allo smaltimento, viene opportunamente trattato con alcune alghe e diventa un acceleratore chimico della fermentazione, genera così energia elettrica pulita, zero scorie, tutto guadagno, nessun inquinamento. Uno di quei casi è stato sottolineato a Bruxelles in cui il territorio della provincia di Frosinone, con una sua azienda, riesce a fare scuola a livello europeo.